e poi magari uno ha un articolo sottolineato rispetto alla questione dei difetti interattivi secondo me uno dei punti fondamentali su cui occorre mettere una grande attenzione proprio in particolare rispetto alla realtà dei studi comprensivi intesi anche proprio per la struttura, le risorse che hanno è la questione di togliere il più possibile tutta la parte di natura burocratica e amministrativa che in questi anni è stata rovesciata addosso che toglie e assorbe un sacco di risorse di energie e di tempo rispetto a quello che è tutto sommato il cuore sostanzialmente dell'organizzazione di un mondo che comunque ha una sua complessità appunto facendo convivere l'infanzia primaria, la seconda e il secondo grado con tutto quello che ne deriva da qui una raccomandazione se si può dire in questo senso cioè che ci sia davvero come è scritto anche nei vari punti senza magari di percorre che ciò vuole essere la strada di una volta tutta una serie di competenze che poi dagli uffici degli allora proeditorati erano stati attribuiti alle scuole però è un dato abbastanza reale questo l'altro tema abbastanza importante su cui non so se può avere qualche indicazione è anche il tema delle reti anche questo ormai è l'autonomia è vero però le scuole comunque vuoi per dimensioni, vuoi per territorio eccetera comunque devono stare in un sistema più ampio e uno dei punti, anche questo è importante della riforma, ecco rilancia e dà appunto un ruolo significativo anche al tema delle reti terzo, mi rilgancio poi alla preoccupazione condivisibilissima perché tutti siamo alle prese col collegio per questa storia il POF triennale eccetera, rispetto all'organico di potenziamento che stiamo vivendo di fatto giorno per giorno settimana scorsa eravamo tutti a Milano aspettavamo di avere qualche risposta non c'era ancora se c'è qualche news dell'ultimo momento perlomeno se dovremmo andare a identificare le aree e non le classi di concorso come parrente dovendo comunque fare un POF triennale che tiene anche conto anche di questo organico di potenziamento pur con tutta la rivedibilità dell'aggiornamento eccetera però non possiamo completamente neanche costruire e l'ultima cosa non so se unissimo o meno se riapre qualche cosa visto che è talmente complessa questa riforma io credo che però dal punto di vista della comunicazione ci sarebbe stato bisogno diciamo di uno sforzo maggiore forse nel senso che a proposito per esempio di Preside Sceriffo a me veniva da sorridere quando le grandi richieste che ho avuto all'inizio dell'anno dei genitori, degli alunni di sostegno erano ma perché lei non può tenere lo stesso insegnante di sostegno dell'anno prima quando è oggettivamente di fatto impossibile che ciò venisse quindi perché leggendo spesso anche informazioni non corrette purtroppo sulla stampa si è generata davvero questa sorta di potere come dire immesso che in realtà di fatti non c'è infatti grazie a tutti grazie a tutti